la segna stampa di scazzo moderato oggi vi voglio dare due notizie che hanno a che fare con l'invasione russa in ucraina e anche diciamo col rapporto che noi abbiamo in merito a questa faccenda e quindi vi parlerò di una cosa che è raccontata dal corriere della sera e poi vi leggerò un articolo che invece è su il post.it però diciamo che le due cose hanno un certo si collegano in qualche modo allora cominciamo da Gazprom che chiude il bilancio in perdita in quasi 25 anni di storia Gazprom la società dell'energia controllata dallo stato russo ha chiuso il 2023 in perdita con un rosso di 629 miliardi di rubli quasi 6,9 miliardi di dollari mancando quindi le stime degli analisti è la prima volta che succede in quasi 25 anni di storia della società cioè dal 1999 gli analisti nonostante il conflitto con l'ucraina ritenevano che il bilancio si potesse concludere con un profitto anche se minore rispetto a quello conseguito nel 2022 l'attuale crollo viene spiegato con i volumi ormai estremamente bassi di fornitura di gas all'europa e quindi uno leggendo questo articolo diciamo però quindi dai due anni da quando c'è stata l'invasione in ucraina l'europa effettivamente si sta organizzando per essere più indipendente no anche soprattutto perché poi proprio in questi giorni sembra che la tensione stia salendo ancora di più in quanto il presidente macron ha detto che se i soldati di Putin varcassero un certo limite a quel punto interverrebbero militarmente e a quanto ho letto pare che l'Inghilterra abbia fatto la stessa identica affermazione bene andiamo al post.it l'europa ha una nuova dipendenza dalla russia è quella dei fertilizzanti le cui importazioni sono addirittura aumentate dopo l'invasione dell'ucraina secondo eurostat l'istituto di statistica dell'unione europea fra il 2022 e il 2023 le importazioni in unione europea di fertilizzanti prodotti in russia sono aumentate del 34 per cento rispetto al periodo precedente all'invasione russa dell'ucraina iniziata a febbraio 2022 se non ricordo male era 24 febbraio però se qualcuno magari lo volesse scrivere nei commenti il giorno preciso così siamo proprio precisini precisi in particolare quelle di urea uno dei fertilizzanti più comuni rappresentano un terzo delle importazioni totali di questo prodotto nell'unione nonostante la tendenza sia parzialmente diminuita nel 2024 le importazioni di fertilizzanti russi all'interno dell'unione europea sono ancora superiori rispetto a quelle del 2021 per questo motivo alcuni esperti e produttori europei hanno iniziato a paragonare questa nuova parziale dipendenza a quella che per i paesi europei avevano per il gas naturale russo nei mesi successivi all'invasione dell'ucraina i paesi europei avevano deciso di ridurre moltissimo l'importazione di gas russo nel tentativo di punire la russia per l'invasione e questo aveva portato a una crisi energetica in tutta europa negli ultimi 60 anni i fertilizzanti hanno avuto un ruolo fondamentale nella cosiddetta rivoluzione verde che ha permesso di aumentare sensibilmente la resa dei campi consentendo di sfamare molte più persone in tutto il mondo i fertilizzanti più utilizzati sono quelli a base di azoto potassa carbonato di potassio e fosfati quelli a base di azoto come l'ammoniaca e l'urrea sono piuttosto impegnativi da produrre dal punto di vista energetico perché sono realizzati impiegando il gas naturale nel complesso il prezzo dei fertilizzanti era iniziato ad aumentare sensibilmente già nel 2021 quando dei maggiori costi dell'energia dei sistemi di trasporto delle merci erano stati causati ovviamente dalla pandemia dal coronavirus bene all'inizio del 2022 poi l'invasione dell'ucraina da parte della russia aveva peggiorato ulteriormente le cose non solo la russia è uno dei principali produttori di fertilizzanti al mondo ma la produzione europea di fertilizzanti dipendeva anche in maniera considerevole dalle importazioni di gas russo fino a quel momento circa il 40 per cento delle forniture europee di gas era assicurato dalla russia con l'inizio della guerra i governi dell'unione europea avevano imposto sanzioni sull'acquisto del gas russo e cercato di sostituirlo il più possibile con quello di altri fornitori in modo da ridurre la dipendenza energetica da un paese ostile e inaffidabile all'inizio però questo aveva comunque portato a una temporanea carenza di gas in europa con un conseguente aumento dei prezzi non solo dell'energia ma anche dei fertilizzanti per evitare ulteriori disagi agli agricoltori e a tutta la filiera soprattutto nei paesi europei più poveri e dipendenti dalla russia l'unione europea aveva deciso di non imporre sanzioni sull'acquisto di fertilizzanti molti paesi hanno quindi aumentato le loro importazioni di questo prodotto dalla russia i cui ricavi per l'esportazione a livello globale in questo settore sono aumentati del 70 per cento nel 2022 rispetto al 2021 nonostante ad allora i prezi dei fertilizzanti non russi siano diminuiti grazie al rilassestamento dei prezzi del gas le importazioni russe rappresentano ora una quota maggiore del mercato quindi adesso non non ve lo finisco che ce n'è ancora un po però diciamo che trovo molto interessante vale la pena ragionarci un attimo di questa cosa per cui si stiamo riducendo l'importazione del gas direttamente ma è aumentato del 30 per cento l'importazione di fertilizzanti prodotti dal gas russo adesso ognuno di che come la pensa sono curioso di sapere la vostra opinione quindi mettete un bel commento qua sotto se vi è piaciuto questo video come sempre vi invito a dare un cazzottone al pulsante mi piace e anche condividerlo per magari far riflettere un pochino i vostri amici perché comunque trovo anche interessante questa cosa gas prom che è andata in passivo dalla prima volta da quando è stata fondata l'aumento delle vendite dei fertilizzanti anche perché come voglio dire è un argomento molto importante cioè i fertilizzanti servono per produrre il cibo e mi sembra che cosa più importante non ci sia quindi vale la pena approfondire questi argomenti noi ci vediamo al prossimo video stati informati ciao